come una mamma ciao rachele come stai oggi c'è una bellissima sorpresa c'è un gioco molto divertente guarda qua guarda qui è un cubo ha tante facce tanti giochi e qui si apre ci sono tante cose bellissime dentro guardiamole abbiamo tante cose per poter giocare qui ci sono i mezzi di trasporto qui ci sono guarda le formine e questi invece sono le lettere dell'alfabeto iniziamo subito iniziamo con le formine mettiamo questi da parte iniziamo col cerchio guardate rachele ma sei bravissima hai messo il quadrato adesso mettiamo la stella e il triangolo guardate adesso ci sono le lettere dell'alfabeto guardate la blu la mettiamo qua via è una b rossa siete pronti via e adesso prendiamo la c eccola qua è arancione e la facciamo entrare qui no è qui via l'ultima lettera la d è gialla via guarda rachele adesso abbiamo questi l'aereo brava rachele hai preso una barchetta mettiamo anche questa ma non abbiamo finito guarda rachele guarda cosa c'è questo è un orologio e questo è un vero orologio guarda questa è la lancetta dei minuti e questa azzurra è la lancetta delle ore guarda rachele che bel chioschetto ci sono alcune note musicali senti do re oh rachele arrivo subito hanno suonato la porta torno subito oh guarda era la vicina ci ha detto se potevamo ottenere il suo cagnolino guarda che bello oh guarda rachele la vicina ci ha lasciato una pallina per giocare col cagnolino ma la vicina ci ha lasciato un'altra cosa per questo cagnolino la sua spazzola guardate com'è bella adesso oh ma guardate com'è bella lì è proprio vanitosa ma tesoro ma io penso che tu abbia fame vero? oh rachele non preoccuparti ho il latte per te vieni qua forza oh di nuovo il campanello arrivo subito aspetta un attimo rachele oh è la padrona devi salutarla rachele lei sta tornando a casa accompagniamo la cagnolina alla porta ecco qua vieni con me rachele noi andiamo alla prossima puntata ciao ciao ciao